Domani pomeriggio alla fabbrica, in scena, lo spettacolo Il giardino delle girandole in cui si potranno respirare le atmosfere del Brasile. Sì, infatti domani pomeriggio siete tutti invitati a partecipare di questo bellissimo spettacolo che si chiama Jardim Cataventus, dove potete vivere per un'oretta circa la fantasia, la magia di un musical in lingua portoghese. L'atmosfera del Brasile è tutta concentrata lì, un mondo magico di colori, vivacità per bambini ma non solo, per tutta la famiglia. Uno spettacolo a sostegno del progetto di mantenimento della lingua di origine per i bambini italo-brasiliani. Sì, praticamente questo progetto viene portato in Italia, questo gruppo di teatro per bambini e adolescenti dentro del progetto della Red Bull, che sarebbe il mantenimento e l'insegnamento del portoghese come lingua di origine per bambini bilingui. Ma il bello di questa cosa è che permetti a tutti, bambini brasiliani, italiani e anche altre nazionalità perché sappiamo molto bene come la musica unisce tutti i popoli, quindi nasce in origine per bambini di questa nazionalità ma si ritrovano tutti insieme, vengono coinvolti tutti, tutti partecipano perché la musica è un linguaggio universale anche se uno non capisce esattamente ogni parola, ma viene appuntato praticamente in questo mondo magico di colori, di girandole, di fiori, di fiabe e sono coinvolti veramente tutti, dal più piccino ai nonni, ai si, a tutta la famiglia.